Nessun ideale scritto nella nostra Costituzione viene toccato e intaccato, così il Ministro dell'Interno Angelino Alfano che ieri a Teramo ha partecipato al convegno La Riforma Costituzionale e il Senato delle Regioni organizzato dal suo partito il nuovo centrodestra per spiegare le ragioni del SIA referendum del prossimo 4 dicembre che deciderà il destino della riforma costituzionale voluta dal governo Renzi. C'è un treno che ha come destinazione il cambiamento e noi questo treno lo vogliamo prendere anche perché è l'ultimo è una grande bugia quella di chi sostiene che subito dopo il fallimento eventuale di questa riforma se ne fa subito un'altra l'ultimo tentativo fu dieci anni fa con la devolution del centrodestra di Berlusconi, di Bossi sono passati dieci anni per un altro tentativo, stavolta ne passeranno 20 o 30 è una chance da non sprecare per chi vuole diminuire i posti dei politici, diminuire i costi nelle istituzioni rendere il procedimento legislativo più veloce. Quello che trovo più ingannevole nella pubblicità e nella propaganda del no che per carità è legittima è il fatto di dire che comunque c'è bisogno di una riforma e si farà subito dopo che avremo votato no ma insomma è chiaro che chi dice questo è in mala fede o ignorante trascura il fatto che in 40 anni non si è riuscito a fare che per far questa ci sono voluti tre anni di mediazione parlamentare e ci vorranno ancora anni di mediazione parlamentare perché sono mille parlamentari che dovranno decidere la riforma costituzionale. Per quanto riguarda il senato delle regioni si eleggeranno quindi 71 consiglieri regionali in tutta Italia ai 19 sindaci di questi 71 un consigliere regionale dell'Abruzzo sarà senatore e un sindaco dell'Abruzzo sarà senatore. Il senato non avrà più il potere di dare o togliere la fiducia né vota il DPF, il documento di programmazione economica e finanziaria ma semplicemente entrerà in alcune leggi che sono quelle della regolazione dei rapporti con l'Europa, con il Parlamento, con le regioni. Nell'ambito del convegno a cui hanno partecipato il presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso e il presidente di Confindustria Abruzzo Agostino Ballone, il deputato Paolo Tancredi e il consigliere regionale Giorgio D'Ignazio hanno presentato il comitato Insieme Si Cambia Teramo, gruppo che sarà composto da professionisti, imprenditori, studenti della società civile.